Ora inizia una nuova tappa della tua carriera. Quanto ti rende orgogliosa sapere che la società punta tantissimo su di te? Sono molto felice e cercherò di dare tutta me stessa per ricambiare questa fiducia che mi è stata data. Sei cresciuta molto nelle ultime stagioni. Che obiettivi ti poni sia a livello personale che sotto l'aspetto di gruppo? Sotto l'aspetto di gruppo vorrei cercare di vincere un trofeo. A livello personale vorrei solo far divertire la gente col mio calcio e cercare di far bene. Grazie. Grazie.